Un accordo importante tra avvocati e investigatori privati per lo sviluppo sinergico delle competenze con l'obiettivo di ricercare verità e giustizia a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale Forense è stato siglato un protocollo d'intesa tra Federpol e la Scuola Superiore dell'Avvocatura. Segna un momento importante perché ormai l'investigatore privato già dal 2001, ma forse non troppo diciamo sopravvalutato da parte degli avvocati, entra a far parte a pieno titolo come strumento proprio di ricerca della prova. L'articolo 391 bis lo prevede con una possibilità importante anche di conferire diciamo con persone informate sui fatti, quindi in un momento significativo e molto importante della ricerca della prova. È uno strumento che va fatto conoscere un po' di più agli avvocati, quindi questo protocollo apre la strada ad una informazione, prima ancora che una informazione rivolta ai miei personali colleghi che possono capire quali siano le potenzialità dello strumento che forse troppo poco spesso viene utilizzato per magari non sempre troppo compreso. Abbiamo ritenuto importante raccogliere queste due volontà sia per quanto riguarda la divulgazione dello strumento investigativo sia per quanto riguarda la formazione degli avvocati e degli operatori del settore. Chi meglio della scuola, superiore dell'avvocatura per raggiungere questi scopi e quindi il coronamento di queste due volontà oggi si chiude con la sottoscrizione del protocollo e poi inizierà veramente l'attività di formazione e di informazione che sarà poi il modo per raggiungere questo scopo che ci siamo prefissati. Per la federazione si tratta di un ulteriore prestigioso traguardo raggiunto. Purtroppo la figura dell'investigatore privato continua a essere percepita in maniera inappropriata poiché le indagini degli investigatori stessi vanno ben oltre quelle legate alle infedeltà coniugali riguardando ad esempio lo spionaggio industriale. Un accordo come quello raggiunto con la scuola superiore dell'avvocatura conferma i costanti passi in avanti nell'ambito di quel percorso di riconoscimento formale alto della professione voluto proprio da Federpol. Un grande passo in avanti per noi. Devo fare dei ringraziamenti a profitto di questo momento per ringraziare la Presidente del Consiglio Nazionale Forense, l'Avvocato Masi, la Vicepresidente della Scuola Superiore dell'Avvocatura, l'Avvocato Ola e non meno il Consigliere Nazionale Stefano Bertollini. Sono le persone, gli attori che hanno permesso questo importante momento. Sicuramente l'informazione, come già detto dagli altri relatori, di coloro che operano nella giustizia e che non conoscono magari effettivamente la figura dell'investigatore e che lo relegano magari a figure maestri rotipate, è importantissimo perché l'investigatore ormai si vede quotidianamente in molte sentenze, in molte revisioni del processo penale, è attore principale nella ricerca della verità e della giustizia. Io ritengo che questo sia una pietra miliare per la nostra categoria e per la Federpol tutta e sarà un momento in cui sarà possibile proprio estendere le sinergie e la collaborazione che c'è con gli Avvocati, cosa che succede già quotidianamente, ma alla luce di una partecipazione ai corsi di formazione, quindi un approfondimento di quella che è la materia, sarà possibile trovare nuovi ambiti proprio di attività. Da sottolineare il fatto che il protocollo consentirà di realizzare azioni comuni volte a favorire lo sviluppo di percorsi formativi diretti ad Avvocati della Libero Foro, nonché agli investigatori privati muniti di licenza. A proposito di formazione, su cui Federpol continua a puntare tanto, si aprono degli scenari interessanti. Questo è soltanto l'ultimo importantissimo accordo, ma prima di questo voglio citare negli anni precedenti i tanti accordi raggiunti con le questure, con le prefetture, col Ministero dell'Interno, con l'Anci e poi con le università. Noi collaboriamo con più di otto università. Infine, ci siamo aperti alle professioni. Federpol ha partecipato alla Commissione Tecnica dell'Uni che ha emanato la norma che certifica la professione del criminologo e oggi ci sono altri tavoli di studio dei veri studiosi della criminologia. Quindi questo non è altro che una naturale evoluzione di un percorso iniziato da tempo, ma è un apice che abbiamo raggiunto molto molto importante e che consideriamo un punto di partenza. Per quanto riguarda Federpol, prosegue l'impegno su più fronti nell'ottica di rafforzare il proprio ruolo nel campo investigativo. Il 2023 è considerato l'anno della svolta.